La sport siamo con Calcagno dello Speranza, un commento sulla partita di oggi è finita bene? È finita bene finalmente dopo diverse delusioni, non ultima quella della settimana scorsa contro l'Olimpia Carcarese, finalmente dopo che la squadra era in crescita è arrivato anche il risultato, ci voleva per il morale di tutti, anche per il mio ho detto che può in essere una sincerità perché stiamo lavorando bene, è una squadra nuova che ha bisogno anche di risultati per trovare morale, convinzione e certezze. C'è stata una differenza tra prima e secondo tempo, cosa è cambiato nel secondo tempo? In realtà secondo tempo è stato talmente veloce il vantaggio del Don Bosco che abbiamo dovuto per forza cambiare ritmo, cambiare marcia, quello che mi è piaciuto della squadra è che comunque anche andando in svantaggio non ha perso la testa, abbiamo cercato di continuare a giocare per quanto fosse possibile, giocare su un campo un po' allentato come questo, e poi alla fine con convinzione e con serenità siamo riusciti a fare i due gol sicuramente aiutati dalla doppia superiorità numerica che peraltro però ci siamo anche guadagnati prendendo molti falli, quindi penso che le decisioni dell'arbitro poi siano state tutte in eccepime. Grazie. Prego.